Ciao ragazzi sono lavergis e sono tornato con questo nuovo video e vi porto la top 5 clip del week episodio 27 Io come al solito vi ricordo prima di iniziare che se volete inviare i miei clip dovete passare il link in descrizione Non disperatemi nel caso la vostra clip non sia presente in questa top perchè potrebbe essere presente nella prossima Comunque ragazzi io direi che si può subito iniziare con la quinta clip che c'è la porta Retentive Una clip che vi starà a far astorcere il naso perchè si tratta di una ched su ghost Sono due ace nella stessa partita, mi piacciono particolarmente queste clip Però ho visto che a voi non piacciono così tanto quindi ve le metto sempre alle ultime posizioni Ma comunque vi ripeto ancora una volta che l'ultima posizione non significa che la clip fa schifo Ma bensì ha superato molte altre clip che mi sono state inviate e quindi io la considerai già una vittoria Comunque qua siamo già al secondo ace, prende il primo e il secondo, va sempre dentro al pro shop con un drop shot Prende il terzo, vede che c'è la bomba ma lui decide di rushare in avanti, esce fuori dal pro shop e prende anche il quarto Comunque è una ched su strexon perchè le vecchie regole gb comprendevano anche quella Comunque siamo già alla quarta clip che c'è la porta Dragon Combat E si trova su raid e tira un tomahawk Io non capivo quando mi metto questa clip perchè fa una doppia Non capivo se aveva tirato due tomahawk o uno solo Ne ha tirato uno, rimbalza e fa una doppia Ho mai visto una cosa del genere però l'ho messa la quarta posizione perchè le clip dopo saranno qualcosa di stupendo Comunque passiamo subito alla terza clip che c'è la porta a Sura Il mio grafico non si vedeva da un bel po' di tempo nelle mie top E si trova su Express, decide di fare un trickshot, fa tutti i lavori dei trickshot E prende il no scoop e sarebbe morto se non avesse fatto la kill perchè gli è passato un treno sopra Comunque adesso si vede ovviamente la killcam Bellissima clip, se vedete quelle scritte là a sinistra ovviamente è perchè si trova su PC Comunque mi fido di lui, abbiamo già visto tantissime i suoi clip Tantissime, due, entrambi stupende Quindi ve l'ho messa Se me l'avessi inviato un'altra avrei un po' storto il naso Perchè tutte quelle scritte lì blu mi infastidiscono Comunque siamo già alla seconda posizione E vi porta Shadow, una 6 men on screen Io non sapevo che cosa significasse comunque con l'XPR Significa per chi come me è molto ignorante nell'ambito cecchini Che si vedono tutte e 6 le persone che uccide nella stessa feed Quindi come vedete adesso ce la fa anche rivedere al rallentatore In modo che ci fa capire che si vedono tutte e 6 le persone nella stessa clip Nella stessa feed Perchè ha fatto un collateral Io non lo sapevo questa cosa Io pensavo che Sintel 6 men on feed o 6 men on screen Fossero la stessa cosa Me l'avete spiegato E quindi lo spiego anche a voi Comunque siamo subito alla prima posizione Che ce la porta Zainon Se non erro Che me l'ha inviato quei due sul code Sul server, sul code Mi confondo sempre con il youtuber Comunque si trova con l'MSR su underground Ha già preso non so quante persone L'ha intitolata 12 men on screen Quindi io mi fido Non on screen, feed Insomma 12 men feed Con l'MSR Ne ha presi già un sacco Poi qua fa un po' di errori Ma comunque la feed ormai se n'era già andata Ve l'ho lasciato lo stesso Perchè fa una kill in più Comunque bellissima clip Assurda Veramente Io spero che la top Vi sia piaciuta Se è così Mi ti lasciano un bel impiace Commentate Iscrivetevi Se non siete ancora Passate la pagina E niente ragazzi Ho finito Ciao a tutti